Tempo di vacanze e come fa la nostra piattaforma a non parlare di vacanza ecosostenibile, dato che è una delle traiettorie più importanti che le nostre pubblicazioni vi propongono giorno dopo giorno. Ebbene, vacanze ecosostenibili dunque, perché con Silvia Umbellini, ci sarebbe anche il marito ma oggi non c'è, Simone Riccardi, coppia nella vita oltre che nel lavoro, si può parlare di vacanze ecosostenibili dando anche utili suggerimenti e consigli. Si sono inventate una professione straordinaria all'insegna appunto del viaggiare ecosostenibile. Silvia, la nostra ospite, è un'architetta con la passione del viaggio, un dottorato di ricerca alle spalle, diversi anni di lavoro nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e anche dell'insegnamento universitario. Il marito era un imprenditore sociale, lo è ancora, perché ha riversato ugualmente la sua capacità professionale in questo Viaggi Verdi Eco BNB, questo dice la sigla. Lo scopo è quello di cambiarlo, il modo di viaggiare, rendendolo più rispettoso dell'ambiente e quindi di conseguenza anche delle persone che lo abitano. C'è di mezzo una piattaforma? Vi daremo consigli utili facendo la diretta conoscenza di Silvia. Subito dopo la sigla. Benvenuta dunque cara Silvia, tu e il tuo bel sorriso, ciao! Grazie, grazie mille dell'invito. Dici subito una cosa, quella sigla precisa Eco BNB, cosa significa? Allora Eco BNB, un po' come dice il nome, è una community che è dedicata al turismo sostenibile, ecosostenibile e quindi abbiamo voluto creare un luogo di incontro tra viaggiatori consapevoli e strutture ricettive che stavano investendo in questa direzione. Ma perdonami Silvia, fammi capire come vi è venuta questa idea, come l'avete maturata? Allora l'idea è nata proprio per una nostra esigenza di viaggio. Quando viaggiavamo volevamo trovare dei luoghi, dei bed and breakfast o delle case vacanza che fossero attenti all'ambiente e quindi che proponessero delle esperienze per i viaggiatori, per noi ecosostenibili. Quindi ci piaceva trovare l'energia pulita, non so, il cibo biologico. E quindi siamo un po' partiti alla ricerca di questo tipo di ospitalità per noi stessi, per i nostri viaggi e ci siamo accorti che in realtà c'erano già diverse realtà che proponevano queste esperienze, piccoli agriturismi biologici, bed and breakfast ecosostenibili o anche cose particolari come case sugli alberi o case vacanze a zero emissioni che esistevano ma erano piccole realtà e quindi non facili da trovare online. E quindi l'idea era proprio quella di mettere in rete queste realtà e renderli semplici da trovare e valorizzare anche questa rete perché proprio l'unione fa la forza. Io direi che meglio di così non potevi spiegare, ma siccome ci hai regalato un video, prima di proseguire, guarda che ho tante domande per te, è giusto che noi mostriamo quel video perché dice tante altre cose. Vediamolo insieme. La migliore cosa che abbiamo offerto è la natura pura. Spesso e volentieri il turismo crea solo danni. Scatole gigantesche di cemento, la cultura locale è distrutta, l'ambiente è distrutto e potresti essere da qualsiasi parte. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio l'opposto, è promuovere la cultura locale, proteggere l'ambiente e dare la possibilità alla gente di venire a fare questa esperienza diversa per poi cercare di cambiare il loro stile di vita. Dei risparmi a livello energetico, termico, gambadine a basso consumo, prodotti biologici, homemade food, local producer. Produciamo l'energia che ci serve, produciamo la maggior parte di quello che mangiamo. Of course, I suggest ECO B&B. ECO B&B mi piace perché dall'altra parte del video mi sembra di avere un amico. Ma anche un consulente, un professionista, essendo una piccola struttura, abbiamo bisogno di avere dei consigli di esperti e con loro li abbiamo. Credo che abbia un ruolo importante e fondamentale che è quello di far conoscere quali sono le strutture che rispettano i criteri di sostenibilità. E' quindi un invito anche a scegliere in maniera più consapevole come trascorrere le vacanze. Rientra nella nostra filosofia, nel mondo globalissimo, seleziona le persone che potrebbero scegliere noi. E' un segnale veramente importante che la gente si avvicina alla natura e perciò vuole dormire, mangiare e bere in modo, diciamo, naturale. Come spendere i tuoi soldi alla fine è il modo migliore per cambiare le cose. Noi cerchiamo di essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, come diceva Gandhi. Beh, mi pare molto chiaro, molto esplicativo. Senti Silvia, siete diventati piattaforma leader in pratica per il turismo ecosostenibile, addirittura in Europa. Come ci siete riusciti? Merito di che cosa? L'aver conquistato in questo momento, dove tutti parlano di ecosostenibilità e qualcuno comincia a torcere anche il naso, no? È importante in qualche modo farsi sentire. Come ci siete riusciti tu e tuo marito? Allora, sicuramente è stato merito del finanziamento che abbiamo ricevuto da Trentino Sviluppo, che ci ha permesso di concretizzare all'inizio la nostra idea, quindi di renderla operativa e di fondare CoBnB. E poi c'è stato un progetto europeo che si chiama EcoDots, che ci ha permesso di entrare in contatto con altre realtà europee e di avere dei partner che ci potessero aiutare per individuare, ad esempio, degli standard comuni di sostenibilità per le strutture e per diffondere il progetto a livello europeo. Un'altra cosa importante che è successa recentemente è che abbiamo acquisito Bookit Green, che era il principale punto di riferimento per il mercato tedesco, sempre un portale simile ad EcoBnB sulla sostenibilità e che quindi adesso, diciamo, è parte di EcoBnB. La situazione in Italia e in Europa del turismo sostenibile o eco-sostenibile, qual è oggi? Perché anche qua è giusto fare chiarezza, se ne sentono tante. Allora, noi notiamo che c'è una crescita proprio di interesse da parte delle persone, quindi la consapevolezza di quanto sia importante la sostenibilità tutti i giorni, anche quando si viaggia, sicuramente sta crescendo. I sondaggi, ad esempio, online che vengono fatti ogni anno, ci dicono che il numero di persone interessate alla sostenibilità è sempre maggiore e soprattutto il numero di viaggiatori che sono convinti che scegliere una struttura sostenibile sia importante durante le vacanze, questa percentuale, ad esempio, è arrivata anche al 90% degli italiani in questo sondaggio di Booking.com, però poi non tanti, cioè solo un 20%, ha sperimentato in prima persona la vacanza sostenibile. Quindi diciamo che c'è una grande interesse sul tema, ma ancora non tantissime persone riescono a mettere poi in pratica e a rendere, diciamo, le loro vacanze davvero ecosostenibili perché magari non ne hanno avuto ancora l'occasione. E quindi che idea ti sei fatta del turismo sostenibile oggi? Che cosa viene a significare oggi? E chi sono in genere i viaggiatori ecosostenibili? Credo che un identikit voi l'abbiate fatto. Sì, allora sicuramente è un turismo che vuole rispettare i luoghi, che vuole rispettare l'ambiente, la natura e soprattutto vuole portare ricchezza alle comunità che abitano nei luoghi e quindi arricchire le persone che abitano in quel luogo. I viaggiatori sostenibili sono persone che sono consapevoli appunto dell'impatto ambientale, in generale dei cambiamenti climatici, di tutto quello che sta succedendo e vogliono vivere e fare scelte per cambiare le cose e quindi vivere in modo più rispettoso dell'ambiente. Vedo Silvia che ti sei addirittura spersonalizzata, ti presenti non con il nome e il cognome, ma con il nome e con la sigla della piattaforma. Questo è molto sintomatico. Ti chiedo per questo, a questo punto diamo concreti suggerimenti, ma per poter proporre il proprio locale, il proprio habitat, chiamiamolo col suo nome, a EcoBNB. Bisogna avere requisiti particolari, ambientali, magari riconosciuti a livello internazionale. Com'è la situazione? Sì, allora, sono necessari dei requisiti di sostenibilità e ne abbiamo individuati dieci principali e di questi dieci le strutture ricettive devono possedere almeno cinque di queste caratteristiche e poi ce ne sono tanti altri secondari. I requisiti principali vanno dall'energia pulita, al cibo biologico, ad esempio la raccolta differenziata, magari l'aver bandito la plastica, saponi naturali, riduttori di flusso per ridurre i consumi di acqua e poi comunque queste sono solo alcune delle caratteristiche principali e poi ce ne sono tanti altri secondari, anche perché le cose evolvono e quindi ad esempio adesso è importante avere anche le ricariche per l'auto elettrica, proporre dei menù vegani, vegetariani per gli ospiti e quindi diciamo che sono sempre in evoluzione anche le caratteristiche green delle strutture che si impegnano e con noi fanno un percorso anche per migliorare la loro sostenibilità. Certo. Senti Silvia, avete creato in pratica una specie di community, se ho capito bene, iscrizione immagino gratuita, come sta crescendo questa community? Allora sì, l'iscrizione è gratuita per i viaggiatori e le strutture possono decidere come iscriversi, se gratuitamente o se collaborare con EcoVNB e con una membership per avere più visibilità e la community sta crescendo, quindi siamo passati dai, non so, 700 mila persone che usavano la piattaforma cinque anni fa a oltre due milioni di persone che la usano adesso, quindi c'è un interesse crescente verso questo tema e verso anche il viaggio sostenibile. Senti, qualche curiosità di location ce la puoi indicare? Voi siete in Liguria, tu mi dicevi che sto chiamando, sto avendo questa pubblicazione in Liguria, puoi dire anche la località? Sì, siamo a Levanto, che è una località vicina alle Cinque Terre, e quindi anche qui cerchiamo di esplorare questa zona cercando degli itinerari lenti, a piedi, anche con le biciclette perché ci sono delle bellissime piste ciclabili che collegano vari paesi ricavate da un vecchio tunnel per roviario e poi anche la canoa è un mezzo molto bello perché ci si può allontanare dalle spiagge e si può arrivare a esplorare le piccole calette, le isolette, gli scogli che ci sono lungo la costa. Se tu e tuo marito siete arrivati a tanto, vuol dire che avete sperimentato personalmente alcune mete di viaggio, ti ricordi le più significative che puoi in qualche modo ricordarci? Allora, altre mete che amiamo molto, sicuramente la montagna, ci sono delle realtà che sono particolarmente attente alla sostenibilità, ad esempio il Parco Naturale Adamello Brenta sulle Alpi in Trentino, è un parco naturale che è proprio attento a fare sì che le strutture si impegnino nella direzione della sostenibilità, poi l'Altipiani Cimbri, che sono una zona molto bella, non così affollata come altre zone del Trentino, dove ci sono dei piccoli paesi che in alcuni di questi, come Luserna, si parla ancora un antico dialetto cimbro e quindi si respira proprio questa atmosfera molto particolare e anche lì ci sono tantissimi percorsi da parapiedi e con le e-bike, ci sono dei sentieri molto belli, dei laghi dove si può fare il bagno, quindi è molto una zona che amiamo. E comunque in tutta Italia, anche il Cilento ad esempio, è una zona che abbiamo visitato e abbiamo apprezzato tanto. sicuramente le zone meno note, meno affollate, meno turistiche e più autentiche sono quelle che prediligiamo. Io abito a Verona, anche se la mia origine è Umbra, butta lì qualche bella meta anche del veronese, c'è il Lago di Garda, c'è la Valpolicella, c'è la città di Verona stessa. Senti Silvia, turismo sostenibile e viaggio, è un binomio dunque possibile e voi quindi avete individuato, ci ha detto prima, quei dieci ecco standard di sostenibilità. Nei confronti dell'Europa che si sta muovendo molto con forza, secondo me e con decisione, verso un orizzonte ecco sostenibile totale, che tipo di riflessione ci agevoli rispetto a questo momento particolare? Sicuramente è un tema importante e non è così semplice, perché comunque turismo sostenibile e turismo e sostenibilità sono in qualche modo due parole quasi un ossimoro, nel senso che il turismo, così come è stato concepito negli ultimi 50 anni, quindi trasferimento di masse di persone da un punto all'altro della terra, quindi già solo quando le persone arrivano a destinazione, hanno già prodotto tantissima CO2, hanno già inquinato tantissimo e quindi di per sé diciamo che il turismo è un tema in cui è difficile trovare esseri sostenibili e quindi sicuramente è una sfida importante, infatti anche per l'Europa è un tema importante, visto che le emissioni di CO2, di gas a serra in Europa al quarto posto delle cause di queste emissioni c'è il turismo e principalmente i responsabili sono i voli aerei. Ecco, io vorrei Silvia che su questo punto dicessi veramente parole chiare e quindi ti aggiungo un'altra domanda, per raggiungere davvero un turismo al 100% sostenibile. Che cosa servirebbe oggi fare che tutti noi facessimo? Sì, sicuramente evitare, evitare i viaggi a lungo raggio, evitare i voli aerei, evitare le crociere che sono un altro tipo di turismo che è molto inquinante e quindi ripensare al modo di viaggiare, di fare turismo e in modo diverso riscoprire luoghi che sono più vicini del nostro paese che magari non abbiamo mai visitato e cercare di farlo con mezzi sostenibili, quindi cambiare, spostarsi sul viaggio in treno, scegliere magari noleggiare un'auto elettrica, muoversi con le biciclette o a piedi e quindi appunto scegliere mezzi che evitano tante emissioni di CO2 e dall'altra parte scegliere anche delle località, delle strutture ricettive che sono attente a questo tema. Una domanda cattiva, me la permetti tra tante domande buonissime. Senti, il turismo sostenibile sta rischiando di diventare soltanto un vero e proprio business. Capisci quello che voglio chiederti e dirti? Sì, sicuramente c'è questo rischio perché la sostenibilità è un tema sempre più importante in tutti i settori, non solo nel turismo. Molte aziende stanno puntando su questo ma non tutte lo fanno in modo serio e quindi molte aziende usano il termine sostenibilità facendo greenwashing e quindi non facendo nel concreto delle azioni importanti per ridurre il loro impatto sull'ambiente e quindi c'è il rischio appunto di andare incontro al greenwashing ed è una cosa assolutamente da evitare e quindi stare attenti anche quando si sente la parola green o sostenibile approfondire se è davvero così cosa è stato fatto e quindi andare oltre diciamo a queste parole che molte aziende stanno quasi tutti adesso stanno iniziando ad usare mi aspettavo questa tua riflessione e per questo motivo ringrazio architetto lo sai ancora un architetto rimani sempre come io rimango sempre giornalista allora ringrazio Silvia Ombellini ringraziamo anche con te la tua equipe la piattaforma il marito che è Simone Riccardi speriamo prima o dopo magari a settembre di fare un'altra puntatina e ci fai conoscere anche il marito ricordiamo questa piattaforma vuoi dirlo tu il tuo sito in modo che rimanga anche in testa in mente alle persone che ci stanno seguendo sì allora il sito è ecobnb.it non si sbaglia neanche se si vuole perché lo si trova anche con estrema facilità ci sono anche dei bei video ma soprattutto incontrate i suggerimenti i consigli di viaggio della piattaforma ti auguro una felicissima estate che sia ecco sostenibile mi raccomando grazie mille grazie a voi per l'intervista e per l'invito a presto grazie 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 a tutti